Il fatto che se ne parli da 40-50 anni è vero, ma noi ci troviamo in una situazione particolare. Oggi per la prima volta ci sono le risorse per le infrastrutture del meridione, in particolare in Sicilia, le risorse del Recovery Fund. Quello che mi preoccupa e ci preoccupa, ecco il motivo di questo nostro convegno, è che queste risorse le stanno distraendo per altri fini e non per l'esigenza reale della Sicilia. Faccio un piccolo esempio che dimostra come anche in questa occasione le forze che in Italia, ma non le forze governative, le forze politiche, ma le forze finanziarie che governano l'Italia, stanno utilizzando un maccheggenio che a me non piace, non piace a tutti coloro i quali si occupano della vicenda. Cioè dire, opere già finanziate in Sicilia, addirittura opere già avviate, e per cui i finanziamenti sono stati già fatti, vengono inseriti nel Recovery Fund per evitare che ci siano delle somme aggiuntive alla Sicilia. Questo è gravissimo, si tratta di circa 10 miliardi. Ecco perché il grido d'allarme che tutti i professori universitari delle università siciliane e calabrese si hanno lanciato circa un mese e mezzo fa, dimostrando che questo è il nostro assunto, io l'ho voluto cogliere come Parlamento Europeo e ho organizzato questo incontro dove si parlano le forze politiche, le forze sociali, le forze venditoriali, le forze politiche al di là delle appartenenze, perché ritengo che sia una battaglia per la Sicilia e per il meridione che non deve avere una bandiera di partito, ma deve avere una bandiera della politica sana.